C'è stata anche un po' di Italia al matrimonio di Anant Ambani e Radica Merchant. Non solo per la presenza di Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, ma per i look scelti dalla sposa per i suoi abiti nuziali. Uno dei vestiti, infatti, è stato realizzato dal brand di alta moda dolce e gabbana. Sono stati quattro gli abiti scelti da Radica Merchant per le sue nozze, tutti in linea con la tradizione indiana. Il primo, firmato dalla casa di moda di lusso a Bujani Sandip Kozla ed usato in occasione della cerimonia, è un panetar, abito tradizionale dello stato indiano del Gurujat, a cui la sposa ha abbinato gioielli di famiglia. Anche per la scelta dei colori la sposa ha deciso di seguire le usanze indiane, scegliendo il rosso e il bianco, come la tradizione vuole. A completare il look un velo lungo 5 metri e degli stivaletti ricamati a mano e impreziositi con pietre e paillette. Per il Vidai, il tipico rito indiano durante il quale la famiglia della sposa saluta la figlia mentre va via con il marito, Radica Merchant ha optato invece per un abito di Manish Malhotra realizzato con fili d'oro ispirato alla tradizione artigianale ottocentesca dello stato del Gujarat. Il corpetto è abbinato a una lengha imbroccato, la gonna tradizionale indiana. A completare il tutto un velo rosso. Come riportato da Vogue, il terzo vestito di Radica Merchant è stato creato invece grazie alla collaborazione tra la casa di moda indiana Abu Yani Sandeep Kozla, l'artista e scultore indiano Jayazri Burman e la stylist Rea Kapoor. Sull'abito, tra ricami a mano in oro e paillette, sono stati dipinti i volti degli sposi. Una scelta, questa, spiegata dalla stessa stylist della sposa, arte e moda sono sempre state amanti. L'una non può esistere senza l'altra. 12 in totale i pannelli delle engha sui quali sono stati dipinti a mano i ritratti di Radica e Anant. Infine, per il ricevimento, Radica Merchant ha scelto un abito italiano. La sposa ha infatti indossato un vestito dolce e gabbana dell'ultima collezione appena presentata in Sardegna. Il bustino, con le coppe evidenziate e spalline in raso, è sovrapposto a una gonna dorata con ricami fioreali. A completare il tutto, un sari firmato a Namika Kanna, tradizionale indumento indiano.